Porco zio, porco zio ragazzi, i giocatori non abbiamo nulla da dire perché alla fine hanno dato tutto La squadra, la Lazio si equivale all'Inter, quindi il paese ci sta tutto A Roma oltretutto, in casa loro, se si può parlare di casa senza tifosi Ho le palle girate, vorrei sparare a zero su tutti, dal portiere A chi è entrato che doveva dare un po' di più e invece si è fatta speller A chi è entrato che doveva spingere e invece si è messa a fare passaggi e retropassaggi Dovrei dire male a chi magari poteva segnare e essere più cinico Non devo dire male a nessuno perché tutti hanno dato quasi tutto La Lazio è una signora squadra, nonostante abbia perso con l'Atalanta malamente Ha giocato fino all'ultimo minuto e se Immobile non si fosse mangiato un gol L'avrebbe anche ribaltato e questo ve lo posso mettere per iscritto Girano le palle, girano i maroni, girano le scatole Però ragazzi adesso spero che i giocatori siano il 10% incazzati come lo sono io Perché dobbiamo asfaltare il Milan al derby Già non ci sto pensando più a questa partita Già non ci sto pensando più perché il primo tempo è stato eccezionale Il secondo tempo è stato un Inter che non ha voluto, non ha avuto Non ha sentito la necessità di chiudere una cazzo di partita Di fare il 2 a 0, tanto la Lazio era con 1 in meno Tanto la Lazio stava perdendo 1 a 0 Quindi sembrava poco pericolosa Ma il gol è sempre dietro l'angolo Un tiro da 40 metri, un calcio d'angolo, un'azione fortuita Un retropassaggio sbagliato di un difensore che lancia l'attaccante avversario Una cappella del portiere Bisogna chiudere ste cazzo di partite E invece vedo l'Inter che dopo l'1 a 0 Porco 2, porco zio Si accontente e continua col giropalla La spalletti e le dà dietro, la davanti e poi lo ridà La porta sta di là Puntate sta cazzo di porta Per il resto, grandi, bravi tutti Perché oggi ha giocato bene anche Cagliardini Ha giocato bene anche Perisic Lukaku ha fatto l'attaccante squadra Lo vorrei un po' più decisivo Brozovic è entrato benissimo Sensi è forte, purtroppo è stato ingenuo D'Ambrosio doveva spingere un po' di più Hakimi il secondo tempo è sparito È sparito tra virgolette È sparito per quello che Per il quale ci aspettiamo su di lui Ci mancherebbe Però quello che voglio dire Possiamo essere amareggiati per l'andamento di questa partita Però poi se ti dicono L'Inter ha pareggiato a Roma con la Lazio E tanto di cappello E la gente non mi scriva Cagate del genere Perché il gemellaggio Spero tu cambi idea per il gemellaggio Ma come fai dopo una partita del genere Con espulsi, violenze A sostenere ancora il gemellaggio Il gemellaggio è tra le tifoserie No, tra i giocatori Se Ciro è immobile È un vendibabà Che dà uno schiaffo a Vidal Gallo Cedrone Che cosa c'entrano i tifosi Che erano oltretutto assenti dallo stadio Basta con questi ragionamenti da Juventini Andate a tifare Juve Passo e chiudo Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Testa al derby Dobbiamo vincere il derby Con la Lazio si può pareggiare E sto ancora ripensando a quel palo di Brozovic Con la Lazio si può pareggiare Con la Roma si può pareggiare Con l'Atalanta si può pareggiare Con la Juve si può pareggiare Il derby va neanche vinto Va stravinto Andata e ritorno Altrimenti Il lunedì dopo il derby Vengo alla Pinettina E commetto una strage Iscrivetevi Attivate la campanella Discreta Inter Grande Lazio stoica Che ha giocato maggior parte del tempo Del secondo tempo In inferiorità numerica Quindi diciamo Questo pareggio Tutto sommato Se lo sono meritato Ciao Iscrivetevi